Arrestato e posto ai domiciliari il giorno prima perché sorpreso in via Capopassero, intento a spacciare droga, è stato avvistato dalle volanti, tranquillamente in strada ieri sera, sempre in via Capopassero, a bordo di uno scooter. È stato arrestato per evasione e resistenza pubblico ufficiale il 48enne Concetto Aiello. Non appena scorta la pattuglia che gli intimava l'Alt, l'uomo aveva infatti iniziato una pericolosa fuga cercando di eludere il controllo, zigzagando a forte velocità le strade del quartiere con la volante che lo inseguiva senza perderlo mai di vista. Dopo varie manovre elusive, abbandonato lo scooter, il 48enne si era precipitato per le scale del condominio in cui vive, cercando di chiudersi all'interno. Tentativo questo fallito grazie alla prontezza di uno dei poliziotti, che più veloce di lui, frapponeva il piede tra la porta e l'uscio, riuscendo ad arrestarlo. L'uomo è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio di convalida.